ho voluto pubblicarla perché penso che sia importante per le nuove generazioni anche la mia ovviamente io vedo una cosa vedo che tutti i ragazzi della mia età si fanno dei problemi che sostanzialmente non esistono cioè si soffermano il mar lasciato la ragazzina depresso sto a casa bevo così nel sentire quel racconto di porca miseria che ti lascia la ragazzina bevi la mia nonna e doveva doveva non so fassi le flebo di rum e pera non so cosa per cui ho detto proviamo a renderla pubblica e vedere un attimo se può servire a far aprire un attimo gli occhi e far capire magari che ci sono anche altri problemi primari perché ora mangiare e ci sa tutti ma è la coppia in euro in tasca e mangi in qualche modo mangi perché comunque il benessere generale si è alzato e ci si lamenta tutti ma in tasca e ci sta sempre almeno almeno un telefonino a 150 euro 150 telefonino 150 euro ma è poco 150 è poco insomma cioè non è tanto poco nel senso perché dimmi chi è che ha un telefonino da 150 in tasca minimo 3 400 euro perché fanno le foto danze perché fanno lo slow motion sicché bisogna spendere l'altro e se te non ce l'hai ti senti un po inferiore agli altri no quindi tutti i problemi fondamentalmente inesistenti per alcuni e poi ovviamente insomma ci sono anche tantissimi ragazzi della mia età che fanno un monte di sacrifici per magari convivono hanno già famiglia per cui nel senso non è vero è ora che tutti i giovani sono scapestrati non c'hanno voglia di non c'hanno ma no non è vero però diciamo che tanti si creano dei problemi che non esistono cioè che se prima non si facevano perché perché avevano da pensare ai problemi primari ora che problemi primari non ci sono più praticamente ci sa tempo di pensare ai problemi secondari che fondamentalmente non cambiano nulla avelli un avello cambia niente per cui ecco questo mi chiama la minonna perché gli avevo detto che è incazzatissima ma mi ha detto che l'ha caricato ma dove l'ha caricato non mi riesce a trovarlo no non è su youtube è su youtube facebook allora la minonna c'ha facebook anche instagram un gli di art lo ogni di facebook e instagram sì già youtube fuori dal mondo non ci riusciva a vederla si chiede sì te la caricherò anche su facebook ma carica sulla pagina si chiede la carico sulla pagina facebook la minonna la condivide subito so che con tutte la mia manda a tutti me la rimanda anche a me ogni tanto è fantastica sono affascinato quando cucina lei perché senti tutte le pentole che sai così come si chiamano i che friggono e con i sughi che bollono fa un roast beef e ragazzi alla fine non si sa cosa a questo punto se sia il roast beef perché io ho anche la mia mamma prova a cucinare il roast beef a quella ma non gli va